Nell'autunno del 1943, in una casa di un marmista, c'è stata la prima riunione del Partito Comunista di Cinque Grondi. Si è discusso, abbiamo parlato, tutte le cose, a un certo momento dice che chi si vuole scrivere al Partito, si può scrivere al Partito. Questo raso mi invita a che io mi iscriviamo al Partito. Io in verità non sapevo che era il Partito Comunista, come non lo sapeva nessun giovane. Molti dei vecchi, antifascisti, non erano d'accordo alla mia iscrizione, perché io ero stato il struttore dei Barilli, essendo capo di centurio e vanguardista, quindi mi consideravo un cheserro fascista. Si volte raso, ma voi avete commemorato Gramsci, perché c'è stata la carriera, la commemorazione di Gramsci che abbiamo fatto a Cinque Grondi. Uscito di là, ho domandato, ma scusami, chi è Gramsci? Uscito di là, ho domandato, ma scusami. Uscito di là, ho domandato, ma scusami. Anche i cosiddetti nobili vivevano sulla miseria del lavoratore, perché gli davano poco, erano dei vagabondi, dei fannulloni. Il contadino era costretto a portarci la verdura uno al giorno, a portarci la gallina e il pollo, a portarci le uova, a crescere la crapetta e via di sé. Tutto hanno previsto, ma io vi dico questo. Tutto hanno previsto, ma io vi dico questo. Un giorno si sveglieranno che il sole sarà lontano e noi avremo una terribile forza in mano. Non sentiremo il freddo già, smorti come siamo. Allora piangeremo, mentre noi cammineremo. C'è stato l'imponibile di mano d'opera che si stabiliva in alcuni momenti stagionali dell'anno. Nei diversi proprietari si mandavano cinque o sei proprietari e cinque o sei braccianti a lavorare per fare alcuni lavori. Dalla pottatura a altri lavori e via di sé. Dalla pottatura a tutti.